Oggi il Movimento per il diritto all'abitare si è mobilitato per venire ad assistere al consiglio straordinario tra i vari punti all'ordine del giorno e anche l'emergenza abitativa. Questa amministrazione tra le tante cose terribili che ha fatto, ne ha fatta una che grida vendetta. C'è un bando per affittare 800 case, si parla di pagarle qualcosa come 1250 euro. Ecco, case dei privati. Questo che cosa significa? Significa che il Comune di Roma, l'amministrazione 5SN, dà i soldi ai privati anziché lavorare per il popolo, lavorare per riattivare le case popolari che ricordiamolo sempre Roma è la città con meno case popolari di tutta Europa. Quindi è vergognoso continuare a dare soldi ai privati perché così si alimenta la criminalità, così si alimenta il malaffare, così si continua a distruggere l'ambiente, è già ridotto malissimo, su cui più che fighiamo sovraffigliamo.